Ma allora, il verdetto quando cazzo esce qui? 10 giornate, 25 giornate, radiazione totale dal calcio, 3 giornate, cosa dobbiamo fare qui? A Cerbi, allora, allora, cosa facciamo qui? E poi voglio dire una cosa all'amico Spillo, 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 parli come i gobbi Spillo, cioè parli e mangi come i gobbi ormai. Anche tu per la storia del 1921, ma non è possibile, ma che cosa sta succedendo? Parli come un gobbo, scrivi come un gobbo, rispondi come un gobbo, preoccupante la cosa Stella, veramente preoccupante, rivedi la tua posizione Spillo, perché non mi piaci, perché se c'ha l'anoglu ti alza lo scudetto in faccia, qua succede qualcosa, Perché se c'ha l'anoglu dal pullman dopo vi manda a cagare, qui succede qualcosa Stella, eh? Parlate come i gobbi. Almeno inventatevela voi qualcosa Stella, eh? Non è che si devono inventare tutto loro, eh? Spillo, mi preoccupi, eh? Mi stai preoccupando e mi fai preoccupando. Nella prossima live ti voglio e voglio spiegazioni. Che cazzo succede qua Stella, eh? Eh? Spillo, eh?